vuoi tu sposarmi eh cosa chi è che parla quindi non mi vuoi sposare lo sapevo lo sapevo tu ne hai d'altra ma che bella una canzone su un cielo blu ragazzi cosa succede la mamma è diventata sull'ambula guardiamo i doni ai bambini pronto si è qua a curatare ok ciao amici sono assasi adesso devo capire cosa sta succedendo ma forse stavo sognando perché infatti non vedo molto bene colla è rimasto qua vediamo tutto un ottimo che deve regare il principe azzurro ma il sacco principe principe sei arrivato che principe azzurro il mio principe azzurro la 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 questo che sei addomintata è gelato è cioccolato un giorno vorrei un gelato e un cioccolato come è finito il cioccolato? rischi il ragnetto sale la montagna il mio ragnetto chi sa? ragnettive la 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 pssh ma perchè lì c'è che di là c'è gelato? di là invece c'è bagno vabbè ho un'idea invece che di là c'è gelato andiamo a cercare gli ingredienti dello zain esco, esco, esco prendo la moto ecco la mia moto pronto? arrivo un attimo il mare perché c'è lanciata per terra poi con la moto e giubbotto è andata male con il giubbotto fa caldo adesso andiamo a posare questo sul tavolino è arrivato il mio cavallo che mi porterà dal principe azzurro questa è una bellissima principessa chi è questo anatroccolo? il papà il papa sua santità il papa vicino a questa principessa che brutto questo film fa paura stavo guardando io però eh mi sento un po' stanca ciao signora ci vediamo dopo a mai che sporchezza che sporchezza ho bisogno di ricaricarmi eccolo ma quali cassetti fa sto video? o quello 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 iniziamola a quello no qui non c'è nulla vediamo qui no qui non c'è nulla sì io che ho fatto la papa andiamola a mettere in la ciotola sono carichissima posso fare ginnastica 1 1 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 1 2 3 e 4 cosa manca? il liquido penentine? e forse? e anche il ricabolato lo diamo un cartello per caffè e allora qui non c'è e anche qui andiamo a controllare di là siamo attenti prima che si vivella no ho trovato il liquido penentine preso mi manca solo il liquido penentine preso mi manca solo il liquido penentine adesso andiamo a cercare adesso andiamo a cercare il liquido penentine e andiamo a cercare il liquido penentine adesso andiamoci prima che si riteglia la mamma principe quando mi porti da mangiare? sono senza forze preparo subito e te lo riporto grazie prego adesso andiamo a cercare il liquido penento poter pensiamoci questo è il liquido penentine non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è si si è arrivato il nostro pranzo io è il momento di fare lo tante e signori e signori buongiorno benvenuti al circo ed ecco voi l'equilibrista mettiamo ancora un po' di polla giro un pochino adesso e poi metto il glitter adesso mettiamo il glitter luce perda vieni a me luce ci sta già fumando ecco l'acqua di letto la parola ecco l'acqua di letto la parola luce si è sfumato adesso non la prenderò come prenderlo e vediamo se è uscito che bello mamma cosa succede? perché sto meditando? oddio un po' di meditazione ci vuole ogni tanto eh Nastasia? chi ti ha detto di fare lo slime? chi ti ha dato il permesso di fare lo slime? sai che io non voglio che fai gli slime cos'è successo? perché mi trovo sul divano sul bordo del divano che medito in pigiama con le calze di Dani di quando aveva sei anni? beh amore cos'è successo? è una storia molto lunga poi ve la raccontiamo un'altra volta ah ok allora il video finisce qua sì eh? amici se il video vi è piaciuto cosa devono fare i nostri amici? attivate la campanella iscrivetevi al canale e polliciate non perdetevi nessuno dei nostri video mi raccomando attivate tutte le campanelline ciao 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 ciao